buonasera ragazzi allora vi avevo visto che chiara ferragni ha fatto pubblicamente un video che ha messo sul suo instagram dove chiede scusa per quello che è successo e spiega che sono stati problemi di comunicazione ha avuto problemi di comunicazione ma allo stesso tempo però si scusa per la comunicazione non ha ammesso di aver preso quei soldi come appunto ha anche detto che cercherà di impugnare la sentenza è che se i soldi da pagare saranno meno devolverà comunque un milione di euro a prescindere da quello che dovrà pagare come voleva fare alla regina margherita allora io adesso voglio dirvi una cosa innanzitutto se ve lo siete perso vi lascio in descrizione che nel mio secondo canale su lives don't want to riserva il video appunto di cara ferragni e le scuse ve lo lascio nella descrizione così magari lo andate a vedere così analizzate anche un po è un video particolare perché comunque lei alcuni hanno scritto nei commenti sotto lacrime di coccodrillo false eccetera ma a parte questo quello che ho analizzato io guardando quel video l'ho visto più di una volta è che non c'è chiarezza forse cara ferragni ha veramente dei problemi di comunicazione perché non c'è chiarezza nelle sue parole lei si scusa di avere avuto questi problemi di comunicazione di aver mischiato due cose cioè contenuto commerciale è quello che volete volvere in beneficenza perché ragazzi se dobbiamo stare messi qua e dobbiamo analizzare i video dell'influenza delle persone dobbiamo commentarli insieme dobbiamo anche avere cosa commentare e io da parte della della signora in questione signora ferragni non ho assolutamente visto trasparenza perché non ho sentito poi ditemi voi se sono scemo magari sono scemo sicuramente ma non ho sentito una missione di colpa quindi questo video secondo me non arriva da nessuna parte è nullo questo video perché comunque sì voglio devolvere ve lo faccio vedere vi farò vedere tutti gli sviluppi parlerò con regina margherita per capire al meglio come appunto fare per poter per capire cosa come useranno i miei soldi io non lo so i valori che insegniamo ai nostri figli sono quelli che se uno sbaglia deve accettare di ammettere di aver sbagliato ok ma tu hai messo di aver sbagliato che hai avuto problemi di comunicazione comunque ragazzi io non lo so io penso che in questo momento ci sia molta confusione in casa ferragni anche a casa mia c'è confusione lo garantisco è un po' nella casa di tutti gli italiani perché comunque una cosa è certa c'è chi muore di fame e c'è chi invece fa soldi a palate come ha detto qualcuno e ne vuole fare sempre di più e lo dice uno che non è né di destra né di sinistra né di centro non è di un cazzo scusando il termine abbiamo questo canale youtube voglio commentare commento comunque ragazzi se volete iscrivetevi nel canale ripeto nella descrizione del video vi lascio il link del video in questione nell'altro mio canale e se vi va iscrivetevi anche nell'altro canale io vi saluto tante buone buon natale a tutti